Ragazzi come vedete una location completamente differente rispetto da dove sono solito fare i video per raccontarvi un'esperienza completamente nuova, un'esperienza che mi vede testimone e da un certo punto di vista anche protagonista dell'edizione 2023 del calcio storico fiorentino. Quindi mi trovo vicino Firenze perché in questo periodo era veramente difficile trovare case più vicine al centro su Airbnb e quindi questa è stata diciamo la casa che abbiamo trovato, molto carina, molto spaziosa e quindi questo è quanto. Ma chiaramente il video di oggi non è per parlarvi della casa che ho affittato su Airbnb ma nello specifico del calcio storico fiorentino. Molti di voi sicuramente non sanno neanche che cos'è, qualcuno magari ne ha sentito parlare. Ecco allora che in questo video voglio spiegarvi un po' che cos'è questa tradizione ancora prima di essere un'attività sportiva e darvi un po' degli alimenti per capire di che cosa stiamo parlando. Comincerei col dire che questa tradizione ha radici veramente molto molto antiche. Pensate che la prima partita di calcio storico fiorentino risale al 17 febbraio del 1530 quando i fiorentini stremati dagli scontri che c'erano in quel periodo contro Carlo V decisero per scherno al nemico di cominciare a giocare a calcio nelle strade. E quale calcio? Beh questa attività diciamo sportiva, questo gioco, questa tradizione risale a radici che risalgono ancora più nell'antichità. Nello specifico si rifà la sferomachia che veniva giocata dai greci passando poi per l'arpastum che era diciamo un'attività che invece veniva svolta dai romani. E quindi questi sono un po' gli antenati del calcio storico fiorentino e a sua volta il calcio storico fiorentino lo possiamo considerare un po' come l'antenato del rugby e del calcio. Come si svolge questa tradizione? Beh ci sono quattro squadre che sono appunto i verdi, i rossi, gli azzurri e i bianchi. E praticamente queste quattro squadre una volta all'anno si incontrano in un torneo che vede appunto due semifinali e poi la partita finale che vede appunto le vincitrici delle due semifinali. È una tradizione molto sentita dai fiorentini. Ho girato un pochettino in città e incontrandomi con le persone comuni, vi racconto un aneddoto, semplicemente andando a fare benzina. Mi sono interfacciato con una persona che ha visto che ero di Spartan Health e mi ha detto ma tu sei quello che fai i video? Eh sì sono io, ma che ci fai qua? Eh sono per calcio storico fiorentino. E lui mi fa ma per chi tifi? Io ho detto guarda non sono tifoso, sono venuto qua per documentare un po' la cosa, interfacciarmi con i calcianti, perché si chiamano calcianti, non calciatori. Capire un po' qual è la loro preparazione atletica e fornire il mio contributo per quanto riguarda le conoscenze che ho io nel mio campo, in modo tale da poter essere utile io personalmente anche a loro. E lui mi fa meno male che non sei tifoso perché per noi è una cosa estremamente sentita, io sono un tifoso dei Verdi e ho detto oh capisco perfettamente che per voi è una cosa molto molto sentita. Questo per farvi capire che tra le persone di Firenze il calcio storico fiorentino è una tradizione veramente molto sentita. Come si svolgono le partite? Dal punto di vista della preparazione atletica è stato molto interessante perché non è che ci sono degli atleti che svolgono unicamente il calcio storico fiorentino. Il calcio storico fiorentino è un'aggregazione di diversi tipi di atleti. C'è chi gioca calcio, c'è chi gioca rugby, c'è chi è un pugile professionista, c'è chi è un fighters professionista. E quindi il bagaglio personale di ogni atleta viene sfruttato in base al ruolo che poi andrà a svolgere nella partita del calcio storico fiorentino. Faccio un esempio, il portiere che sta nella retrovia deve avere delle caratteristiche atletiche particolari, deve essere veloce, deve essere esplosivo e infatti le persone di solito che svolgono questo ruolo vengono dal calcio o da attività similari. Di contro chiaramente le persone che vengono da un'attività di combattimento pugilistica, MMA, stanno davanti perché sono la prima barriera, devono avere diciamo doti che riguardano lo scontro fisico perché appunto nel calcio storico fiorentino è previsto lo scontro fisico e non ci sono regole. O meglio qualche regola c'è ma praticamente si combatte letteralmente a mani nude e quindi con calci, pugni, sottomissioni, atterraggi e via dicendo. Quindi è previsto lo scontro fisico, quindi capirete bene come pugili, fighters e altri lottatori sono molto utili soprattutto nella linea davanti come barriera. In campo scendono 27 atleti disposti in 3 portieri, 4 terzini, 5 mediani e 15 attaccanti e praticamente lo scopo del gioco è quello appunto di portare la palla nella rete avversaria. Le partite durano 50 minuti e sono chiaramente 50 minuti intensissimi perché chiaramente c'è non solo una componente sportiva ma anche una componente di combattimento e sapete bene se conoscete un attimo di sport da combattimento come la box o l'MMA sapete bene che le riprese durano poco, durano 3, 4, 5 minuti perché sono estremamente stressanti. Ora provate a immaginarvi 50 minuti dove non ci sono praticamente mai interruzioni se non in alcuni casi specifici. Capite bene che è estremamente drenante come attività. Quindi siamo qua per analizzare dal punto di vista atletico la preparazione di questi atleti. Vedrete numerose interviste, vedrete interviste sia ai calcianti sia ai rappresentanti delle squadre che ai loro presidenti. E che dire, questo è quanto e ci vediamo nelle prossime puntate. Grazie.